buongiorno e benvenuti in questo nuovo video di weekend roulotte io sono stefano sto sistemando un attimo la roulotte prossimo weekend weekend di pasqua a ponte lungo vi faremo un bel weekend ancora non abbiamo deciso la meta abbiamo una mezza idea comunque lo scoprirete nel prossimo video ne approfitto per parlarvi un attimo del discorso assicurazione mi sono arrivati un paio di mail chiedermi appunto su assicurazione roulotte come funziona mi sono accorto che non ho mai parlato forse ne ho parlato in un video così in linea generale adesso ve ne parlo un attimo meglio dunque assicurazione quando la roulotte è agganciata all'auto l'assicurazione dell'auto si estende sulla roulotte infatti bisogna comunicarlo alla propria assicurazione quando installiamo il gancio traeno appunto che abbiamo il gancio traeno in alcune assicurazione compresa in altre no si tratta di un 5 8 per cento in più rispetto a quanto pagate di solito poi c'è un'altra assicurazione della roulotte che è l'assicurazione contro il rischio statico cioè quando è sganciata dall'auto quando si fanno le manovre in un ambiente pubblico ecco qui ci saranno un po di discordanza c'è chi dice che l'assicurazione statica non è obbligatoria c'è chi dice che l'assicurazione statica obbligatoria parliamo di un costo di solo per assicurazione statica di 30 40 50 euro dipende dalle compagnie assicurative io non sono qui per dirvi obbligatorio obbligatorio secondo me è obbligatorio non vi metterò il codice della strada dove dice di sì ma c'è chi interpreta di no c'è chi dice che è obbligatorio solo quando si sgancia la roulotte dall'auto ma uno dice ma io non la sgancio la ruota allora uno può dire ma tu non sai magari in quale situazione potrai mai sganciare la roulotte magari hai un problema e devi sganciare la roulotte oppure sei finito in un vicolo stretto e non riesci a fare manovre quindi sei obbligato a sganciare e fare manovre ecco quel caso lì devi avere l'assicurazione contro il rischio statico io ho fatto un altro ragionamento di questo tipo io sono convinto che sia obbligatoria ma questa potete anche sicuramente ci sarà qualcuno che nei commenti dirà esattamente il contrario mostrandomi codici vari e vari siti ma io penso che una roulotte che è dotata di proprio libretto e dotata di targa propria deve avere anche un'assicurazione propria io l'ho fatta ma perché è possibile anche implementare l'assicurazione contro il rischio statico con furto incendio cristalli insomma si riesce a fare un pacchetto completo consiglio soprattutto quando la roulotte è nuova ma una cosa fondamentale che voglio consigliare a tutti che a volte può sfuggire il discorso dei carnotrezzi per il recupero della macchina ma che si è compreso anche il traino della roulotte perché ho visto in vari gruppi di persone che avevano il carotrezzi per l'auto hanno avuto un guasto è venuto il carotrezzi ha caricato carotrezzi l'auto ma non era compreso anche il trasporto della roulotte col carotrezzi quindi hanno dovuto pagare di tasca propria e questo non è una cosa simpatica quindi vi consiglio questo di sentire proprio assicurazione di verificare appunto che sia compreso dei carotrezzi oltre al trasporto dell'auto anche il traino della roulotte giusto per non trovarsi poi a dover sborsare di tasca propria per quanto riguarda le assicurazioni sono un sacco di assicurazioni quindi si possono fare variati preventivi da allianz vittoria assicurazioni toninelli zuri vedete poi quella che fa al caso vostro vanno tutto bene vanno vanno tutte bene le assicurazioni come tutte si scopre quella che va meglio quando c'è bisogno e fino a quel momento vanno tutte bene quindi era solo per farvi giusto un veloce video un veloce discorso sull'assicurazione non è il mio lavoro io non sono un assicuratore vi porto un attimo la mia esperienza altri se volete scrivermi nei commenti la vostra esperienza quale assicurazione avete che pacchetto avete così riusciamo a aiutare anche altri utenti grazie ancora essere rimasti fino a questo punto vi ricordo che weekend roulotte sia su facebook e su instagram se il video vi è piaciuto lasciateci un bel like iscrivetevi al canale e ci vediamo nel prossimo video